ecco tt in posizione di pigna che è seguito da willy e adesso tt prende la pigna di tt willy la vuole essere lanciata invece tt si è fermata proprio a mangiarla e willy di qua via amore mio quanto sei buono tu facevi il portiere comunque da qualche parte